Ok, andiamo! Voltare a sinistra. Ok, andiamo! tenersi a destra e poi uscire a destra uscire a destra 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 e poi uscire a destra uscire a destra a destra tenersi a destra e poi voltare a destra e poi voltare a destra voltare a destra eccoci a destra eccoci arrivati eccoci arrivati